Ecco a voi, Holorin Cose sono le visioni del mese, ovvero cosa ho visto io a livello di film e serie televisive questo mese Ora, siccome ho notato che si sono accumulate un po' di cose, molto probabilmente dal prossimo mese spezzerò Farò una parte 1 e una parte 2, la parte 1 a metà del mese e la parte 2 a fine mese Quindi, quindi, iniziamo, iniziamo con le visioni del mese Aspettate che uso il loghino, eccolo lì, il loghino delle visioni del mese E iniziamo con la prima visione del mese, che è questa Che ora, ovviamente, devo ridurre perché sono stupido e non l'ho fatto prima Ovvero, The Benshies of Insuring, o come è tradotto in italiano I spiriti dell'isola Di Martin McDonagh Scritto, diretto e prodotto, mi pare, anche da lui Che aveva già diretto un altro film molto di successo a livello di critica Ovvero, Tre Manifesti e Big Missouri E stavolta ci ha deliziato con questa In teoria sarebbe una commedia Ma è una commedia che smette di essere commedia molto velocemente È un dramedi, se vogliamo usare un neologismo Allora, un piccolo incipit sugli spiriti dell'isola Gli spiriti dell'isola è un film ambientato appunto in quest'isola di Inisherin Durante i primi anni del Novecento Primi anni del Novecento In cui, quindi, c'è la guerra civile in Irlanda Tra irlandesi che sono Dalla parte del Regno Unito, dell'Impero Britannico E invece gli irlandesi che sono per la libertà Quindi è stato libero di Irlanda Solo che il contesto storico In cui è ambientato questo film È molto superficiale Fa un semplice parallelismo il regista Tra la guerra civile Che si sta svolgendo nello sfondo Di cui si sentono soltanto i rumori all'interno del film Perché l'isola è abbastanza distaccata dal resto Del mondo, diciamo così Del mondo narrativo proprio E quindi si sentono soltanto i suoni Dei cannoni, degli scontri Molto in lontananza E fa questo parallelismo proprio tra La guerra civile Irlandese E la guerra civile Che avviene tra i due protagonisti Patrick Che però è scritto non Patrick Come potreste pensare È scritto alla irlandese Che è Padraic Scritto Però si pronuncia Patrick A quanto pare E Colm Perché? Perché a un certo punto Colm La mattina Si sveglia E dice a Patrick Io non voglio più avere niente a che fare con te Non mi devi rompere il cazzo Proprio gli dice così Proprio chiaramente Non mi devi rompere il cazzo E giustamente Patrick Un attimino un po' sorpreso da questa cosa Perché fino a ieri Amici Si bevano insieme Si raccontavano le storie A un certo punto Basta E quindi L'inizio del film Segue la confusione di Patrick Nel capire Perché Colm ha deciso così A quanto pare Colm ha deciso così Perché Non riesce più a sopportare La banalità La stupidità Anche Di Patrick E vuole cercare di Lasciare il segno In questa vita E non lo può fare Se passa La maggior parte del suo tempo Appresso a Patrick E alle sue storie E sui suoi animali Che sono In realtà la sua famiglia Perché Patrick Vive con Shioban Che è la sorella Però Diciamo che ha una famiglia estesa Perché lui Tiene moltissimo A tutti i suoi animali Anzi Molte volte Li fa Entrare in casa Nonostante la sorella Non voglia E li fa vivere Insieme a loro E la storia Prosegue Con Inizialmente Ripeto In maniera anche Abbastanza comica Con Patrick Che cerca in tutti i modi Di Risanare i rapporti Con Colm E Colm invece Che non vuole Il problema è che La parte comica Si esaurisce Molto in fretta Lasciando spazio A Non soltanto Narrativamente Ma anche visivamente C'è proprio un cambio Non so se quanti di voi L'hanno visto E quanti di voi L'hanno notato C'è un cambio Fotografico C'è un cambio Di messa in scena Man mano Che il film Va avanti Perché diventa Sempre più Inizialmente Grottesco E poi Drammatico Grottesco Perché Colm Pur di non avere Nulla a che fare Con Patrick Arriva anche All'autolesionismo Per dimostrare a Patrick Quanto sia in realtà Serio Nel fare ciò E Patrick Che inizialmente È molto ingenuo Molto Come dire Anche sballordito Da questo comportamento Ma man mano Che il tempo passa Anche lui Si irrigidisce Ma più che irrigirsi Io l'ho visto Come un tirare fuori In realtà La sua vera natura Perché poi è quello E Cambia tutto Cambia tutto Ora senza voler Spoilerare troppo E La fine Poi Per me Magica La fine del film È proprio Magica Non solo Per messa in scena Che è curatissima Ragazzi Perché Si vede Si vede La durezza Della terra Traslata anche Nei personaggi In alcuni personaggi La durezza E anche la bellezza Della terra Di quest'isola irlandese Che viene anche Traslata Nella caratterizzazione Nella messa in scena Di personaggi Ma non sono soltanto Loro due Il fulco E la narrazione Come anche La La sorella Ma Menzione d'onore Secondo me Forse No in realtà No la migliore interpretazione Perché Sono veramente Tutti quanti bravissimi Ma una delle migliori Interpretazioni di questo film In generale Che ho visto Questo mese È per Dominic L'attore che fa Dominic Barry Keoghan Che fa questo ragazzo Molto semplice Molto Sicuramente con qualche Disturbo Dello sviluppo Dell'apprendimento Però molto semplice Molto ingenuo Che viene Anche Abusato fisicamente Dal padre Che inizialmente Viene presentato appunto Come Lo scemo del villaggio Quindi è Una Un'introduzione Ha una funzione Comica All'interno Dell'opera Ma diventa Man mano che va avanti Il film Diventa sempre più Carico di pathos Questo personaggio Fino ad arrivare Alla confessione Alla confessione Senza Dire troppo Però quando si arriva Alla confessione Lì Arriva al lago Quel momento Lì veramente Ragazzi Vi stringe il cuore Cioè vedere La semplicità Anche in un momento Così triste Così amaro La semplicità Con cui l'attore Riesce a esprimere Sentimenti molto Complessi Vi lascia Sbalorditi E poi Ciò che dà il titolo All'opera Le benshis Le benshi Sono delle figure Folcloristiche Irlandesi Di queste entità Che Come Angeli Della morte Segnano il loro Arrivo Che coincide Poi con La morte Di qualcuno Urlando E Proprio per creare Un parallelismo Con tutto il film Ormai Arrivati Al ventesimo secolo Le benshi Non urlano più Non urlano più Le benshi Fanno parte Della società Osservano In silenzio Senza alcun tipo Di Diciamo Protagonismo Osservano In silenzio Le Grazie Oddio Ho messo Gli alert sotto Scusatemi Grazie Anciartet Per i 13 mesi E Osservano Le vite La vita umana In silenzio E All'interno del film È presente Una di queste benshi L'attrice Ovviamente Non mi ricordo il nome Un'anziana signora Che addirittura Quando lo stesso Patrick Incontra Per evitarla Si nasconde Dietro il muro Ed è una presenza Sempre appunto Messa in secondo piano Che c'è Però non viene mai Fatta vedere chiaramente Addirittura Certe volte È messa anche fuori fuoco Volutamente fuori fuoco E ho apprezzato E ho apprezzato moltissimo Appunto questa cosa Per far capire come Le tragedie Molte volte Per avvenire Quando avvengono Non hanno bisogno Di proclami Non hanno bisogno Di sfarsi Non hanno bisogno Di urla Ma molte volte Avvengono tragedie Anche nel silenzio Ed è un film Meraviglioso Ragazzi Rimane tuttora Il miglior film Che ho visto In questo 2023 Anche perché ho visto Filme solo a febbraio Ne ho visti un pochino Però ad ora rimane ancora Il miglior film Che ho visto Sotto ogni punto di vista La sceneggiatura Funziona benissimo Perché Vi dà il tempo Di capire Ciò di cui si sta parlando Il contesto Sia storico Ma anche Geografico Le varie dinamiche Tra i personaggi E già dopo Mezz'oretta Voi non siete più In sala Siete In Isherin Cioè non siete Con altre persone Siete lì State vivendo Quello che sta succedendo Neanche si sente Che c'è Una macchina da presa Siete veramente immersi All'interno dell'opera Registicamente appunto La messa in scena È clamorosa È bellissimo Quei quadri Che McDonagh Riesce a dipingere Con Con le inquadrature La fotografia è naturale Quindi Si aggiunge anche Un livello di difficoltà In più Per riuscire A Calibrare Benissimo La messa in scena Utilizzando luce naturale E Il sonore Meraviglioso La colonna sonora È sempre Presente Ma mai Soverchiante E gli attori Ragazzi Come vedremo anche In altri film Di cui parlerò Più avanti Gli attori Veramente Riescono Ad avere Un ruolo Davvero importante All'interno dell'opera Non vengono messi In secondo piano Anzi Vengono utilizzati Dall'autore Proprio per Esprimere Qualcosa Molte volte Gli attori Vengono utilizzati Proprio come Dei pupazzi E poche volte Hanno Una Una reale Capacità Divulgativa Per quanto riguarda Chiaramente Le emozioni E anche messaggi Poi in realtà Non ci sono messaggi Non è Un film Che vuole avere Alcun tipo di Valore Morale O quant'altro Però proprio L'esprimere Determinati concetti Poi vabbè C'è Colin Farrell Che più passa il tempo Più diventa bravo È incredibile Sta cosa Colin Farrell Ma anche proprio fisicamente Se lo vedete Colin Farrell Diventa sempre Più bravo Riesce sempre Più espressivo Non lo so Ogni film Che vedo su Già Con The Lobster Mi aveva stupito Ho detto Ma questo è veramente Colin Farrell E da The Lobster In poi Sì anche le sopracciglia Sempre più spesse Sempre più arcigne Quasi Però che Aiutano Nell'espressività Ma poi tutti Ripeto Tutti Per me Barry Keoghan Il ragazzo che fa L'attore che fa Dominic Veramente Mi ha stupito Tantissimo Anche perché È un attore Che già conoscevo Comunque Questo per quanto riguarda Gli spiriti dell'isola Ragazzi Non credo Riuscirete A trovarlo ancora In sala Perché Non lo so Non credo Non credo sia un film Che si lasciano in sala Per molto tempo Però Quando uscirai In fisico Quando uscirai In streaming Recuperatelo Recuperatelo Perché merita Davvero Davvero tanto Il secondo film Di cui vi voglio parlare È Del M. Night Shala Shyamalan 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 Che è Bussano alla porta Bussano alla porta Allora Chi conosce La poetica La narrativa Di Shyamalan Sicuramente Sa Cosa aspettarsi Quindi sa già Se magari Può essere un film Che gli può piacere O meno In realtà Devo dire È un film Che pur conoscendo Pur conoscendo L'archetipo Del genere Di cui fa parte Perché è un horror Appartenente al sottogenere Del L'home invasion L'home invasion Che non lo sapesse Sono quei film In cui ti entrano a casa E iniziano a violentarti Picchiarti E tutte quelle cose Tipo funny games Che si ricorda E quindi Inizialmente Il film Si presenta come quello C'è un film appartenente Al sottogenere Dell'home invasion In realtà Il regista è bravo A cambiare un po' Le carte in tavola E Cioè Prende quel genere lì E lo trasforma Lo trasforma Perché è vero Che c'è una Home invasion Di questa coppia Di genitori Che hanno questa 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 figlia I genitori Sono una coppia Omosessuale E questo dettaglio Serve a confondere Lo stesso spettatore Nonché Gli stessi protagonisti Perché inizialmente Questo gruppo di Questo gruppo di persone Sembra essere La classica Setta religiosa Che È contro Le coppie Dello stesso genere Quindi Ti presenta questa cosa Come se fosse Un discorso Appunto Riguardo Quelle tematiche lì Che è qualcosa Che sarebbe stato Sarebbe risultato Molto banale In realtà Il regista è intelligente E utilizza questo Unicamente per confondere I personaggi E lo spettatore Perché poi Diciamo che Vengono fuori Le vere intenzioni Di questo gruppo Di personaggi E E non è assolutamente Come si potrebbe Immaginare Anche perché Il regista Secondo me È bravissimo Come ha fatto Tante volte Nel lasciare il dubbio Allo spettatore E agli stessi Protagonisti Fino alla fine Infatti L'unico calo Secondo me Che c'è nel film È quello che non lo fa essere Vedente un film Secondo me Molto più Bello Di quello che è Non che sia un film brutto Per carità È un film godibilissimo Fatto molto bene Perché comunque È un bravissimo regista Shyamalan Però Alla fine C'è una risoluzione Che Fa perdere un po' di potenza Secondo me Al film stesso È una risoluzione Probabilmente Necessaria Però fa perdere Un pochino di potenza Al film Rimane comunque Un film Molto bello Perché registicamente Riesce a Creare Anzi allo spettatore Riesce benissimo A mettere in risalto Le emozioni Di tutti i personaggi All'interno Di questo microcosmo Perché alla fine Ragazzi si svolge tutto A parte qualche scena Di flashback Si svolge tutto All'interno di questa cabina Quindi fa anche un lavoro Di messa in scena Molto Molto Apprezzabile Perché non è semplice E ne parleremo anche Con un altro film più avanti Non è assolutamente semplice Avere Un luogo chiuso E girare Il 90% Del tuo film All'interno di quel luogo chiuso Ecco Cioè devi essere Un bravo regista Penso per esempio A A Carnage Di Roman Polaschi Che è fatto così Bellissimo film Anche quello Quindi Bussano alla porta Secondo me Rimane un film godibilissimo Un film che veramente Vi fa passare una serata Magari non è un film Che vi rimarrà dentro Per sempre Non è un film Che cambierà La vostra La vostra esistenza Ma rimane un film Secondo me Molto molto godibile Che vi farà passare Sicuramente bene Una serata La serie di cui voglio parlare Che ho visto Nella sua interezza Che è una stagione sola È questa Allora Prison School Prison School Serie di animazione Del 2015 Mi pare Prison School Io ho iniziato a vedere Prison School Con Zero aspettative Cioè mi aspettavo Di vedere Una serie Con Culi E tette E basta E l'ho vista Proprio per quello Ammetto In realtà In realtà È una serie Che mi ha Incredibilmente Stupito Per La sua Accortezza Nei tempi comici Riesce a essere Incredibilmente Intelligente Nel Deliverare Le battute Le gag Gli sketch Comici Perché poi Il contesto narrativo È molto semplice Ovvero ci sono Questi cinque ragazzi Che sono in questa scuola A prevalenza femminile Che Vengono Beccati A spiare Nel bagno Delle ragazze E allora per questo Vengono incarcerati E messi a fare Lavori Lavori Peggio Dei Condannati A morte A un certo punto Addirittura La Chi Diciamo Le carceriere De questi cinque ragazzi Decidono di trovare Tutti i modi possibili Per farli espellere E loro quindi E Cercano Tutti i modi possibili Per evitare Di farsi espellere La serie è molto semplice Non offre Colpi di scena Clamorosi Anzi Devo dire che Molte volte Funge Da 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 parodia Proprio per quelle serie In cui ci sono Dinamiche del genere Ma quello La vera forza La vera forza Secondo me Di Prison School È proprio questa Di non prendersi Sul serio Di sapere benissimo Che la gente Guarda Prison School Sta guardando questa serie Per le tette Per i culi Per le signorine E le mettono in risalto Quelle cose lì Ma le mettono in risalto Secondo me In modo molto intelligente Cioè non è fanservice Quello nascosto Quello mandato lì Soltanto per svegliare Un attimino L'interesse Dello spettatore E poi parlare di altro È unicamente quello È unicamente fanservice Ma fanservice Fatto in maniera Anche furba In maniera furba Prima di tutto Perché non si limita A un certo tipo Di fanservice Cioè non è che Si limita a far vedere Il décolleté O le gonnelline Abbraccia un pochino Tutto L'ambito Del feticismo Ok Anche Di alcune Parafilie Le abbraccia tutte Le metti in scena Tutte E lo fa Anche con un certo Tipo di In maniera molto esplicita In maniera molto esplicita Poi ripeto Secondo me ragazzi Dovreste vedere Prison School Non solo per le signorine Che sapete benissimo È una cosa che Condivido sempre Ma proprio perché È una serie Incredibilmente divertente Secondo me È una serie che Se vedete Consci di questo Abbracciandone L'anima comica Perché poi è quello Se abbracciate L'anima comica Della serie Vi vedete Sono 12 episodi Non ricordo male 12-13 episodi 12 episodi E ve li vedete Proprio Divertendovi Rilassandovi Anche Rilassandovi In molti modi Poi dipende Perché anche lì Ripeto È molto esplicita La serie Tra l'altro Ilaria Che mi ha consigliato Questa serie Prima di qualsiasi Altra persona E mi ha anche detto Che nel fumetto Addirittura Sono molto più espliciti Determinate scene Quindi Probabilmente Prima o poi Recupererò Anche Anche il fumetto Io ai tempi Cercavo una sega Ma trovai le risate Verissimo Verissimo Bill Buetz Verissimo Cioè è molto Divertente Ma tutti i personaggi Hanno Una Sono personaggi Molto Poco Approfonditi Ma proprio perché Devono essere Delle macchette Il problema è che La macchetta In questo caso Funziona Funziona perché È contestualizzata In un prodotto Che vuole essere Quello Vuole essere Una Commedia Semplice Facile Diretta E secondo me Ci riesce Ci riesce Poi anche Grazie Masterpatria Per il follow Benvenuto caro Poi anche Non sempre Però ci sono momenti In cui anche l'animazione Secondo me Soprattutto quando Raffigura La figura Determinate figure Femminili In determinate situazioni L'animazione Diciamo Ci hanno investito Abbastanza Quindi Ve la consiglio ragazzi Per queste motivazioni Che vi ho dato Poi chiaro Non è Gurella gun Però è molto divertente Molto molto divertente Andiamo avanti Con un'altra serie Di cui però Ho visto Non tutto Perché chiaramente Avevo già visto I primi episodi Quando uscirono Qualche mese prima Ovvero Gli ultimi Ora anzi Aspetta Vi prendo anche i titoli Se mai Qualcuno mi caga il cazzo Gli ultimi Gli ultimi Quattro episodi Della sesta stagione Di Rick e Morti Ovvero Full Metal Jack Rick Terapia e pipì Madonna Quello episodio Un Rick Alla corte Di Rick e Morti È un Natale Rick esplosivo Questi sono i quattro episodi Che ho visto Allora Io è già da un po' Che dico Che Rick e Morti È un unicum Nei prodotti seriali Perché è una Veramente È rarissimo Che succeda È una delle pochissime È uno dei pochissimi Prodotti Che Riesce a migliorarsi Stagione dopo stagione Ora Non che Ogni singolo episodio Di ogni nuova stagione Sia superiore A ogni singolo episodio Della stagione precedente Però Nel complesso Ogni stagione Si rivela essere migliore Della precedente Sotto ogni aspetto La qualità Visiva Chiaramente aumenta Perché Più fa successo Rick e Morti Più ci investono Nel budget Quindi ci sono Ci sono Animazioni Ci sono scene Veramente che sono Incredibili Pur mantenendo Lo stile Caricaturale No no Non farò spoiler Pur mantenendo Lo stile Caricaturale Di 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 Justin Roiland Perché lui Ha fatto Il character design Di Rick e Morti E Tutti Gli effetti visivi Le animazioni I fondali Tutto Diventa sempre meglio Stagione dopo stagione Questo chiaramente Per questo Ma a livello narrativo Ragazzi Le serie tipo Rick e Morti Che Ce n'è molte A livello di animazione Americana Quindi quelle serie Che fanno Della 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 satira Il loro punto forte Molto spesso Dopo Un tot Di episodi Di stagioni Soprattutto Calano Calano Perché o Ripetono Già Situazioni Già viste O Ripetono Battute Già sentite Tutte quelle cose lì Che ovviamente Stuccano dopo un po' Rick e Morti Invece Riesce sempre Ad essere Interessante A livello A livello proprio Comico Perché non solo I bersagli Di Rick e Morti Sono Illimitati Cioè non è che si focalizza Sulla Sulla satira politica Sulla satira sociale Abbraccia Abbraccia Qualsiasi cosa Abbraccia La politica La società Abbraccia anche Lo stesso ambiente Di cui fa parte Quindi quello Della cultura pop Abbraccia Mai la battuta Semplice Utilizza anche Per esempio Nell'ultimo episodio Utilizza Come diciamo Incipit Dell'episodio Una cosa semplicissima Banalissima Banalissima Che però Nessuno aveva ancora fatto Ovvero Rick regala a Morti E vabbè Non è spoiler ragazzi Quei proprio I primi minuti Dell'ultimo episodio Rick regala a Morti Una spada laser Funzionante Che giustamente Voi Chiunque Si è chiesto Ma scusami In sei stagioni Che morti Perché non ha mai Creato una spada laser Essendo l'uomo Pi' intelligente Dell'universo Regala a Morti Una spada laser E Morti Cosa fa? Fa cadere la spada laser Ora voi direte Vabbè Successo niente Il problema è che Morti Fa cadere la spada laser Perfettamente Perpendicolare Alla superficie E quindi Questa spada laser Inizia a sprofondare 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 E da lì Parte tutto l'episodio E poi quello Chiaramente E' uno degli episodi Di più strutturati Perché non solo Porta avanti La trama verticale Dell'episodio Ma porta avanti Anche la trama orizzontale Della serie Trama orizzontale Che non solo Era Iniziata Stagioni fa Ma che soprattutto Alla fine Della quinta stagione All'inizio Di questa sesta Sesta stagione Aveva ricevuto Un ruolo Abbastanza importante Non solo Non solo per l'universo Rick È esistito in funzione Di Morty E di quello Che gli autori Volevano trasmettere Con Morty E con le sue interazioni Con la famiglia E con Rick stesso Questa stagione Soprattutto Il personaggio di Rick Diventa una figura Veramente importante E veramente approfondita Altro motivo Per il quale Ogni stagione Che passa Rick e Morty Riesce ad essere Sempre migliore Perché Anche a livello Narrativo L'intelligenza Degli autori Non solo Sta nel Saper scrivere Bene Benissimo Quindi Mantenendo Un'irriverenza Unica O Un Dei tempi comici Mai sbagliati Ma anche Riuscendo A fare Piccole critiche A quello Di cui stanno parlando Che sia la società Che sia Che sia la politica Che sia la cultura pop Qualsiasi cosa Ma riescono Anche a portare avanti Poco a poco La trama orizzontale Che è sempre Qualcosa di Secondario È volutamente Qualcosa di secondario Perché è comunque Una serie animata Comedy Fa parte delle comedy Quindi La commedia Per funzionare Bene Deve essere Sempre improntata Su una certa verticalità Perché altrimenti Entrano in gioco Determinate dinamiche Che potrebbero mettere In secondo piano Una commedia Rick e Morty Invece Sa questo Gli autori Sanno questo C'è la commedia Quello che intrattiene Lo spettatore medio E lo fa benissimo E poi Oltre la commedia Ci sono Caratterizzazioni Di personaggi Che vanno avanti Da sei anni E sembrano sempre Non finire mai Perché Ogni volta Che aumenta La caratterizzazione Di uno dei personaggi Sembra qualcosa Che Dici Ma aspetta Effettivamente Questa cosa Va a renderti Il personaggio Più vivo Più vero Perché non era Stato detto prima Perché appunto Non si sono bruciati La caratterizzazione Prima E poi Chiaramente L'interesse Nelle dinamiche Fantascientifiche Perché quello C'è sempre Ottima fantascienza Quella di Rick e Morty E poi Ovviamente La trama orizzontale Che è presente E Riesce a mantenere Vivo L'interesse Degli spettatori Di lungo corso Cioè Quelli che seguono Rick e Morty Da ormai Quanto? Dieci anni? Del 2013 Rick e Morty Non mi ricordo No forse no Forse 2000 Quanti anni è Rick e Morty Se io non me lo sto ricordando Ormai Mi sembra sia 2013 Giusto? Assurdo Tar Di Toddfield Allora Tar Di Toddfield Su Tar Ho sentito Tribunale Amministrativo Regionale Chiaramente Su Tar Ho sentito Ho letto E sentito Molte opinioni Nessuno Che dice Che è un brutto film Nessuno Che dice Che è un brutto film Però Ecco Come pollo Alcuni Dicono Eh Non è Granché Oppure Eh Però Poteva essere Fatto meglio No The Whale Ancora no In realtà Secondo me Tar È un film Incredibilmente Intelligente Sia Per messa in scena Che per scrittura Poi Ovviamente Ciò che rapisce Ma è voluta Questa cosa Ciò che rapisce È Kate Blanchett Che fa una delle interpretazioni Più belle di sempre Kate Blanchett In questo film Perché il film è lei E lei è il film Ma non è una cosa Che dici Se non ci fosse stato Quest'attore Il film sarebbe stato Una merda È proprio questo È proprio questa L'intenzione Del regista Perché il film Parla Di una direttrice D'orchestra I direttori D'orchestra Hanno sempre Avuto questo ruolo Centrale Ok Non è che tu vai A conoscere I singoli Violinisti I singoli Suonatori Di trombe Di cose Non li conosci Vedi La figura Del direttore D'orchestra Vedi quella figura Lì Centrale Innalzata Rispetto a tutto Il resto Egocentrica E allora L'autore Ha fatto questo Ha messo Kate Blanchett Al centro E tutto Ruota intorno a lei Però Non è che l'ha fatto Per innalzare Quella figura No Anzi Proprio per criticare Quella cosa lì Per criticare L'egocentrismo Per criticare Non soltanto nel mondo Delle orchestra Ma poi nel mondo in generale Ovvero L'innalzamento Di una singola figura A discapito delle altre Tant'è Che già nei titoli di testa Il film si dimostra Dimostra questa intenzionalità Perché i titoli di testa Come siamo abituati a vederli Siamo abituati a vederli Con il nome del produttore Il nome del regista Il film Film iniziato Stavolta cosa fa? I titoli di testa Che tra l'altro Sono accompagnati Con Tutti i film Accompagnati Con una colonna sonora Incredibile I titoli di testa Vedono all'inizio Il nome di tutti quelli Che hanno partecipato al film E soltanto alla fine Soltanto alla fine C'è Nome del produttore E nome del regista Quindi già da lì Ti fa capire chiaramente L'intenzione del film E il film Comunque La figura di Di Tar Di questa Di questa Direttrice L'orchestra Che il top Del top Ragazzi E' veramente La migliore al mondo Ha raggiunto Traguardi Che nessun altro Aveva raggiunto Viene Inizialmente Fatta vedere In un modo Ok? Te la presenti In un modo Ti presenta alcuni aspetti Del suo carattere E soprattutto Ti presenta Quel personaggio lì Come riflesso Del comportamento Di tutti Ciò che ha Attorno Molto Sottomessi a lei Che la trattano Con riverenza E in realtà Però lei Non è la vittima Del film E' il carnefice Quindi noi seguiamo Il film Il film Ci fa seguire La vita del carnefice Cioè E' lei Che Bullizza La sua assistente E' lei Che Mette in secondo piano La famiglia La moglie E la figlia E' lei Che Tratta male Un ragazzo Soltanto perché Le sue idee Non gli permettono Di apprezzare O gli Fanno rinnegare Un artista Come Buck Ma il fatto La cosa interessante Che il regista Non lo fa mai Prendendo una posizione Chiara Il regista Vi fa vedere Tutte le Incongruenze Non solo Della protagonista Tar Ma anche Di quel mondo Che vive Attorno a lei Di questo ragazzo Questo ragazzo Perché è all'inizio Del film C'è questo ragazzo Che Alla Juilliard Che è una delle Migliori scuole Al mondo Per quanto riguarda La musica Si rifiuta O anzi meglio Non apprezza La musica Di Buck Soltanto perché Lui Appartiene Alla comunità LGBTQ Mentre Buck Era una persona Molto maschilista Anche per il modo In cui trattava A moglie Amanti E cose varie E allora La signorina Tar Inizia a prenderlo Di mira Inizia veramente A bombardarlo Di Critiche Diciamo così Cercando di fargli Capire Il suo punto di vista Il problema è che Non glielo fa capire Gli impone Il suo punto di vista Quindi Il film stesso Soprattutto in quella sezione lì Vi fa Vi fa mettere in dubbio Non vi dà una risposta Vi fa chiedere Ma in quel caso Chi ha ragione C'è la ragione E se c'è Chi ce l'ha Ed è tutto così Il film comunque Non vi vuole Non vi vuole Insegnare nulla Non vuole essere Un film petante Assolutamente È un film Che Il cui unico obiettivo È quello di mettere In scena Una figura Incredibilmente complessa Come quella di Tar E E farvi vedere Quanto Ma non solo per lei In generale Non bisognerebbe mai Innalzare Le singole individualità Poi E questo credo sia Incontestabile L'interpretazione Di Kate Blanchett Ragazzi È veramente qualcosa Di raramente visto A meno da parte mia Io poche volte Ho visto un'interpretazione Come quella Voglio fare Kate Blanchett Non soltanto A livello proprio Vocal Io poi ho avuto La sfortuna Di vedere Tutti i film Di cui vi sto parlando Ho avuto la sfortuna Di vederli In doppiati Però Appena Mi sarà possibile Li rivedrò In lingua originale Soprattutto Gli spiriti Dell'isola Ma anche Tar È uno Dei film Di cui vi parlerò Dopo Perché In questi film La voce Ha un ruolo importante Nella prova attoriale Con la voce L'attrice O l'attore Riescono a comunicare Qualcosa che però Non c'è nelle parole È qualcosa che c'è Soltanto nel tono Della voce Poi Anche visivamente Ha un'espressività Kate Blanchett Io ho visto diversi film Con Kate Blanchett C'è il film Blue Jasmine Di Woody Allen Dove è meravigliosa Anche lì Però qui Veramente ragazzi È un alto livello La rabbia L'arroganza La La Come si dice La passion L'appassionalità Sì Della Della protagonista La Come si dice La superbia Stavo pensando Al peccato capitale La superbia Anche Della Della protagonista Tutto riesce Ad essere espresso Da lei Senza Certo oltre Neanche senza Parole Da lei Dalla sua interpretazione Poi ora Vedo La sovrastruttura Il problema è che La sovrastruttura Del film È un'opera È un'opera Va avanti Con la musica Quindi è strutturato In un certo modo Molto Quadrato Molto freddo Anche Riproponendo Chiaramente Anche la location In cui Viene Girato il film Il film è girato a Berlino Per poi cambiare Diventare C'è un'altra Un'altra sinfonia Cambia E diventa più Ritmato Diventa più Sincopato Il film Ed è questo Secondo me Anche questa È una cosa Veramente curata Perché Non è semplicemente Fare il verso All'opera È crearla L'opera Ant-Man And The Wasp Quantum Mania Ragazzi Questo È un brutto film Chiunque dica Chiunque Dica Indipendentemente Da che persona Sei Che sei una personalità Del mondo del cinema Sei una personalità Del mondo dell'influencing Un conto del creator Quello che volete Chiunque Dica Che questo è un bel film Fatevi il favore Di non ascoltarlo più Ma non sul cinema Su qualsiasi cosa Perché Non è Una persona Onesta È un film Brutto Sotto Ogni Punto Di vista Non c'è Senza quasi Non c'è nulla Forse l'unica cosa Che poteva essere Leggermente apprezzabile Peccato che non sia Neanche mai Stata esplorata Era Il design Del mondo quantico Ma si vede veramente Due secondi Basta Basta Poi È l'unica cosa interessante Poteva essere Un attimino approfondito Poteva essere reso Un film di fantascienza Che riprendeva I classici film Di fantascienza Degli anni 50 Tipo Come attentato In modo fallimentare La Disney A quanto pare Con Strange World Anche quello È un film molto classico Che riprende molti Molte tematiche Della fantascienza classica Lo potevano fare Anche con Quantum Mania Invece hanno deciso Di fare Il Vorrei dire Il solito film Ma in realtà Anche chi dice Il solito film Marvel Sbaglia Il solito film Marvel Poteva essere Strange Multiverse of Madness Quello sì Quello è il solito E mi dispiace Perché è fatto da Raimi Ma quello è il solito film Marvel Quello sì Un film Senza infammi E senza lode Secondo me Quel film di Strange Penalizzato Dal suo essere Troppo interconnesso Con il resto Della produzione Cinematografica Della Marvel Però Tutto sommato Un film che Tu lo finisci Cioè vabbè Poteva essere peggio Qua no Qua difficilmente dici Poteva essere peggio Cioè Secondo me Per essere peggio di questo Devi essere Black Panther E Capitan Marvel Ovvero due film Che non solo sono brutti film Ma vogliono farti anche La lezioncina morale Lì Solo per quello Sono peggio Se non avessero avuto La lezioncina morale Erano Paragonabili Però siccome Mi vogliono fare anche Male La lezioncina morale Allora Su Cassero Black Panther Capitan Marvel So peggio Però La siamo Cioè la siamo Allora Dato che poi È giusto anche Un attimino È giusto anche Un attimino Parlare del film in sé Non ho blasfemo Ma fai bene Tu giustamente dici Hai studiato chimica Valerio Che titoli hai Per parlare di cinema È verissimo La cosa Non è una Cioè è una domanda lecita La tua blasfemo E io infatti A differenza Del fumetto Dove ho Studiato anche L'arte Del fumetto In maniera approfondita A livello del cinema Ammetto tranquillamente Che a parte Aver letto Qualche saggio E aver visto Un buon numero Di Un buon quantitativo Di film Non ho fatto Un percorso accademico Però Proprio grazie A quelle conoscenze Che ho sviluppato Che ho Costruito Negli anni Conoscenze Che ripeto Non si limitano Alle visioni Cioè non è che Basta dire Ho visto tanti film Ammetto di aver letto Anche qualcosina Per quanto riguarda il cinema Per capire È un'arte Quindi secondo me Le arti Grazie mille Edo per i venti mesi Le arti Se veramente Vuoi cercare di capirle meglio E vuoi anche cercare di parlarne Devi conoscerle A livello strutturale Cioè devi capire Cosa viene fatto Quando viene girato un film Cosa viene utilizzato Come viene utilizzato Che meccaniche Ci sono dietro E come poi magari Sono state anche Cambiate quelle meccaniche Lì Come si sono evolute Nel corso del tempo Perché comunque Ha sempre più di cent'anni Il film Il cinema Quindi è un'arte Che si è molto evoluta Nel corso del tempo Ecco Questo concentrato di conoscenze Che ammetto Ripeto Essere limitato Rispetto ad altri Però mi fa dire Che è un film di merda Mi fa dire Che è un film di merda Perché? Perché i personaggi Non sono neanche Degli archetipi Narrativi I personaggi rappresentati Nel film Sono delle banalità Narrative Ogni personaggio È una banalità Narrativa Personaggi Già conosciuti Sono la riproposizione Passata Dello stesso personaggio Non c'è alcun tipo Di evoluzione Quindi Se io guardo Ant-Man and the Wasp Quantum Mania O io guardo Ant-Man and the Wasp È come se A livello di personaggi È come guardare Lo stesso film Poi I personaggi nuovi O comunque Che hanno un ruolo diverso Come la figlia Di Ant-Man E Kang La figlia È un calcio nei coglioni Vuole essere un personaggio Il classico personaggio Che si fa Portatore Di certi valori Morali È come ogni film Marvel Quando vogliono fare Il personaggio Portatore Di certi Ideali Risulta un personaggio Rompicoglioni Perché? Perché non lo sanno scrivere Non lo sanno scrivere Banalmente Gli ideali morali Il personaggio Per essere Per rappresentarli Li impone O fai questo O sei un pezzo di merda Capite che c'è un po' Un problema Quando fai così Poi Kang Invece Che tutti hanno Elogiato L'interpretazione Di Non mi ricordo Il nome Dell'attore Di Kang Ma è Nemico standard Nemico standard Proprio standardissimo Di ogni altro film Della Marvel Non è neanche una buona Interpretazione Per me Perché Nove volte su dieci È urlato Cioè Kang Dovrebbe essere Un personaggio Con una certa Imponenza Con una certa Anche regalità Perché è un personaggio Universale Che ha trasceso Il tempo E lo spazio E nove volte su dieci Urla Mannaggia Non è giusto Che cazzo Ma che cosa Non provo Alcun tipo di terrore In una persona Che urla Vuol dire Che non è così Imponente Se si urla Appena Un tizio Random Una formica Gli rovina i piani Capisci Che non ha Non è una buona Interpretazione Quella Non mi incute Temore Senza Dimenticare Che proprio Il personaggio In sé È scritto male Cioè Kang Immaginatevi Kang Ok Un essere Che ha Veramente Trasceso Il tempo Che riesce A viaggiare Attraverso Le dimensioni Che ha Una conoscenza Tecnologica Che può Rassomigliare La magia Tanto è evoluta E come Finisce Il cazzo Di film Con una Scazzottata Con una Scazzottata Ragazzi Ma Dio santo Ma veramente Con una Scazzottata Ma che Personaggio È Questo dovrebbe Essere Il prossimo Villain Incredibile Con una Scazzottata Con Ant-Man Poi Lasciamo stare I famosi Buchi di Trama Perché ragazzi Se vi mettete A vedere I buchi Di trama Nei film Marvel E poi Ve lo andate A cercare Ma qui Non è che Si parla Di buchi Di trama Qui si parla Di un film Scritto male A prescindere Dalla trama Perché la trama Non poteva essere anche scritta In modo lineare Pulito Diretto Ma fa scacare Fa cacare Ragazzi C'è tutto Nasce Io vi ricordate Cosa avevo detto Dal trailer Quando vedemmo il trailer Perché il trailer Ormai vi dice tutto Praticamente Che Tutto quel bordello Succedeva perché La figlia scazzava E faceva una stronzata E poi quindi Tutto il film era Il cercare di riuscire Perché la figlia Aveva scazzato Questo È un grande Un grande film Presentazione Di Kang Basta Il problema È che è una presentazione Fatta male Di Kang Perché se questo Deve essere il prossimo Villain Dell'universo Marvel E allora Piccola parentesi L'intrattenimento Esiste Ed è giusto Che esista Anzi Deve essere Prima di tutto Intrattenimento Perché è nato così Però Come ogni cosa Come ogni cosa Esiste L'intrattenimento Fatto bene E l'intrattenimento Fatto male Come ogni cosa Ragazzi Perché C'è Io vi troverò Che è un film Di merda E c'è Joe Wick Che è un film Clamoroso I film ragazzi Sono quasi identici Però perché uno È merda E perché uno È clamoroso Perché uno Viene fatto Da persone Lasciamo stare Le tendenze Politiche Di quelle persone Ma viene fatto Da persone Che non sanno Fare il loro lavoro Non sanno Che cos'è il cinema L'altro invece Sì E qui Succede la stessa cosa Doctor Strange In The Multiverse Of Madness Ant-Man Sono la stessa cosa Uno È un film Fatto bene Perché è fatto Da Raimi Quindi è un film Fatto bene L'altro no Punto Non ho voglia Di parlare di Modok Perché se esiste Una persona Al mondo Che parla bene Di Modok Io gli auguro Di diventare Modok Basta Ultimo film Di cui voglio parlare Che è l'ultimo Che ho visto L'ho visto Qualche giorno fa Ovvero Di Darren Aronfosky Aronfosky Non so se poi Si pronuncia Non ho mai capito Se si pronuncia Aronfosky Così The Whale Io ammetto Di essere Che prima Della visione Del film Ero pronto Perché conosco Aronfosky Conosco La poetica Narrativa Registica Di Aronfosky E quindi Sapevo cosa aspettare E sapevo anche Con mio Incredibile Tristezza Sapevo anche Che sarebbe stato Un film Che avrebbe Polarizzato il pubblico Così come fu Ai tempi Perché me lo ricordo Ancora molto bene Mother Punto esclamativo Perché Se voi andate in giro Nel mondo C'è gente Che Elogia The Whale Definendolo un capolavoro Ciao Ilaria Ciao tesoro Ho parlato di Prison School Ilaria Ho parlato di Prison School Prima Dato che stiamo facendo Il format Television Che elogia The Whale Definendolo un Un capolavoro Sbagliando E c'è gente Che dice Che è Un film Di merda Allora Il cinema Il cinema Che cos'è Regia E montaggio Questo E il cinema Successivamente Come ulteriore livello C'è la sceneggiatura C'è la colonna sonora C'è la scenografia Ci sono tutti questi altri Ok Se io guardo un film Se io guardo un film La prima cosa Che guardo È Come viene Reso Registicamente Quel film Se c'è qualcuno Nel mondo Che Ha il coraggio E Anche l'arroganza Di dire Che Aaron Fosky Non sa girare un film Mi chiedo Che futuro Ci sia Per quest'arte Perché Aaron Fosky Ragazzi Questo era l'altro film Che dicevo Che era stato girato In quattro mura Perché Tutto il film Non una parte Del film Tutto il film È girato all'interno Della casa Del personaggio Di Charlie Di Brandon Fraser Ora poi ne parleremo Anche lì ragazzi Vabbè E' girato all'interno Di una casa Quindi Riuscire A piazzare La camera da presa Sempre nella posizione giusta Per riuscire a Rendere Allo spettatore L'emotività Della scena L'emotività Di personaggi All'interno Della scena Anche la costruzione Della messa in scena Con tutte le sue geometrie E tutto questo All'interno di uno spazio Chiuso e limitato Diciamo che Non è cosa da tutti Non è cosa da tutti Io vi ho citato Un altro signor regista Prima Parlando di Dicevo La L'abilità Del regista Nel saper Sempre piazzare la macchina Ma anche muovere la macchina Perché ci sono La macchina non è fissa La macchina si muove Semplicemente tu non te ne accorgi Che si muove Proprio perché lui è bravo Tu non ti accorgi Di Del movimento Della macchina E Del Di essere all'interno Di un set Tu sei dentro Quella casa lì La casa che poi rappresenta E credo sia anche Abbastanza semplice Come Allora Per chi non conoscesse Il regista È un regista A cui piacciono molto I simbolismi Però Non è un simbolismo Nascosto il suo È molto diretto È molto diretto Anche in Mother La roba della costola Della cicatrice La nascita di Eva È chiara È chiara Non la fa nascosta E anche qui ragazzi Il parallelismo Tra la casa E il corpo di Charlie Questa gabbia Che Si è Costruito lui stesso È chiarissimo È chiarissimo Semplicemente non viene detto Viene fatto capire Con le immagini Ragazzi E questo è il cinema Questo è il cinema Perché tu una cosa del genere In un libro Non la puoi fare La puoi fare nel cinema Quindi Se io devo guardare questo film E lo devo giudicare come un libro E allora sbaglio io Non è che sbaglia il film Il film Anzi il film fa bene Sono io stupido Che lo sto giudicando come un libro Poi tu puoi anche essere In disaccordo Con un certo tipo di Di messaggio Che vuole mandare il film Magari non sei d'accordo Con il discorso Della Dell'obesità Il modo in cui magari te lo rappresentano Ma non è quello che devi giudicare Perché quella è una cosa soggettiva Molto soggettiva Cioè non è quel tipo di soggettività Che secondo me ci sta Nel giudizio di un film È una soggettività Molto più personale Poi anche alla fine Il modo Chiaro Semplice In cui ti chiude quel film Non è neanche un film Che vuole spingere troppo Sull'emotività Non è un film Che Punta alla lacrima facile Ma assolutamente no Anche io Che potrei avere Punti in comune Con il personaggio di Charlie Anche col suo rapporto Col cibo Io non è che mi sono messo a piangere Soltanto perché Ho Una facilità di Inmedesimazione In quello che sto vedendo Perché non vuole essere Questi film Non vuole essere un film Dalla lacrima facile È un film che ha Una emotività intrinseca E te la riesce A esprimere benissimo Te la riesce a esprimere benissimo Poi Se vogliamo parlare Di Brandon Fraser Che fa una interpretazione Meravigliosa Perché all'interno Di questa interpretazione Fraser riesce a mettere Anche Il sé Cioè non solo Usa la maschera Di Charlie Riesce a A A A A Aggiungere alla maschera Che è quella che indossano Tutti gli attori Anche un po' Di Vita vissuta Personale Sua Di Fraser Perché Per chi non lo sapesse Fraser Per dieci anni È stato Lontano Dal mondo cinematografico Volutamente Non Volutamente E quindi Per lui Questo film Era anche Una Un'occasione Di rilanciarsi Quindi c'era Un certo tipo di Emotività Che aveva Dentro Che è riuscito A tirare fuori A tirare fuori In questo film Però sempre Filtrata Filtrata Dalla maschera Di Charlie Che è il personaggio Che interpreta Poi anche La Fisicamente La Il costume Perché un costume Non è reso In computer grafica È fatto benissimo Ma così come era Anche in altri film È molto visivo Aronofsky È molto Cronenberghiano Anche Aronofsky Cioè Non usa Il facile Effetto speciale Ci investe Nell'effetto speciale Per renderlo Più vero Anche brutto Da vedere Che ti impressiona Ma vero Che lo senti Lo tocchi E E quindi Per me ragazzi Non è un capolavoro Assolutamente Non è un capolavoro Ci sono Anche nel finale O anche in alcuni personaggi Ci sono alcuni personaggi Che magari sono Un po' superflui Per il ruolo Che hanno all'interno del film Ma non è un brutto film Non è un brutto film Non è un film Io ho visto Ho visto Critiche Ora questo Non riguarda Il mio giudizio Sul film Però veramente Ho visto Critiche Che secondo me Hanno poca Poco a che fare Con il film Io ho visto Persone che Criticavano Il film Perché Non è giusto Che sia Fraser A rappresentare Un uomo obeso Dovevano scegliere Un Un attore Veramente obeso Per rappresentare Il personaggio Di Charlie Io non so Se queste persone Hanno visto il film Ma Charlie È una persona Di 300 chili Che non può neanche Camminare È una persona Che è vicina Alla morte A causa del suo peso Capite Il problema È che queste critiche Poi Quando vengono fatte Attraverso alcuni Siti Alcune piattaforme Pesano sul giudizio Dell'opera Oppure ho visto gente Che giudicava Negativamente Il film Perché Hanno avuto Un'esperienza Nella loro vita Che per carità È un'esperienza Nella loro vita È incriticabile Quella Hanno avuto Un'esperienza Nella loro vita Con persone Che sono venute A mancare Che erano In sovrappeso Erano Obese E non gli è piaciuto Come il personaggio Di Charlie Invece sia Non gliene freghi nulla Perché il personaggio Di Charlie Ragazzi Questa non è spoiler Al personaggio di Charlie Non gliene frega un cazzo Non vuole andare in ospedale Non gliene frega Assolutamente un cazzo Basta Lui ha vissuto La sua vita È un film Dannatamente semplice Ragazzi In questo È un film Dannatamente Puro Dannatamente Felice Il personaggio di Charlie È un personaggio Che sta morendo Non gliene frega niente Lui è un personaggio Che ha vissuto La sua vita È felice E vuole soltanto Un altro po' Di felicità Anche egoista Anche molto egoista Come personaggio Vuole soltanto Essere felice È sempre un personaggio Ottimista È un personaggio Che tratta le persone Con gentilezza Ha fatto i suoi errori Nella vita Non è un personaggio Perfetto Ma ha fatto la sua vita Appunto E ora capisco che tu Nella tua di vita Hai avuto un'altra esperienza E per te Quel discorso lì È molto sensibile È un discorso Molto importante Molto delicato Ma questa è la visione Del regista Anzi Il film è tratto Da una pizza teatrale Quindi non è la visione Del regista È la visione Di quello Che ha fatto La pista teatrale Ma è la sua visione È come ha vissuto lui Questa cosa È come la vuole Rappresentare lui È un film Ce n'è Nel documentario È un film Ragazzi Perché Perché devi valutare Un film In base alla tua Esperienza di vita Perché Perché Questo è quello Che mi fa incazzare Poi ripeto ragazzi È un buonissimo film Ve l'ho detto Ve l'ho cercato Di fare Anche capire Anche narrativamente Il modo in cui Viene appunto Rappresentato il personaggio Di Charlie La sua relazione Con Amici E con Parte della sua famiglia Anche come Viene rappresentata La figlia Per esempio Non viene Non viene Rappresentata Positivamente Ma fino alla fine Non viene rappresentata Positivamente Ma perché Ma perché Non può essere Rappresentata positivamente Per quello Che ha vissuto La moglie Pure Ma anche Charlie Stesso Non è un personaggio Completamente positivo Anzi Eppure Sono personaggi Incredibilmente veri È un film Non vuole essere Non vuole essere Una lezione di vita Non vuole essere È un film Film Che racconta una storia È una storia Di Gipi No scherzo Quello è un fumetto È una storia Guardatelo E giudicatelo Per quello che è Per favore Per favore Però devi mettere Un sottofondo musicale Avete visto O lo rinventi tre E giudicatelo E giudicatelo E giudicatelo E giudicatelo